In questa seconda lezione dedicata a Frege volevo enunciare, spiegare, due fondamentali principi, quello della sostituibilità e quello della estensionalità, che sono presenti nella teoria semantica fregheana. Poi passeremo successivamente ad altri argomenti che riguardano l'analisi degli atteggiamenti proposizionali, cioè del modo in cui ci si relaziona alle proposizioni, il modo in cui il soggetto si relaziona alle proposizioni. Passeremo poi per la spiegazione della oggettività del senso, il senso che è già stato spiegato nella lezione precedente, visto come un qualcosa di oggettivo e quindi non di soggettivo, di relativo ad un nostro stato mentale, ad una nostra immagine mentale, sarebbe meglio dire, e che è inconoscibile dagli altri. E infine concludere con i riferimenti dei predicati e il problema del concetto cavallo, che si vedrà alla fine. Allora, il principio di sostituibilità enuncia che se S contiene una espressione E ed E1 ha lo stesso riferimento di E ed S1 risulta dalla sostituzione di E1, allora S1 ha lo stesso riferimento di S. Cioè, se noi in una proposizione cambiamo una espressione che ha lo stesso riferimento con un'altra che ha lo stesso riferimento, anche la proposizione che ne deriva resta uguale, nel senso che ha lo stesso riferimento e dunque ha lo stesso valore di verità, perché il valore di verità è determinato dal riferimento e non dal senso. Per quanto riguarda invece la estensività e il principio di estensività, ci dice che anche dei predicati coestensivi hanno lo stesso riferimento. Cioè, se ci sono dei predicati, ad esempio pipistrello e mammifero volante, che hanno quindi la stessa estensione, perché l'estensione dei mammiferi volanti è la stessa estensione dei pipistrelli, ecco, che hanno anche lo stesso riferimento. Avere la stessa estensione significa avere lo stesso riferimento, per cui, ripeto, se dico alfa è un pipistrello e alfa è un mammifero volante, beh, sto dicendo la stessa cosa. Per quanto riguarda, come già si è accennato, agli atteggiamenti proposizionali, si deve fare riferimento a quelli che sono i nostri modi di porci davanti a certe proposizioni, che sono modi di credenza, di dubbio, cioè sono nostri stati mentali e in particolare nostri atteggiamenti con cui noi ci poniamo in relazione a certe proposizioni. E un esempio di atteggiamenti proposizionali è il seguente. Selly crede che alfa è un pianeta. Questa proposizione non è una proposizione dunque relativa al pianeta, perché non dipende tanto da cosa sia il riferimento del termine singolare. È una proposizione relativa a Selly e la proposizione che Venere è un pianeta, che alfa è un pianeta. Nelle cosiddette that clauses, che sono quelle proposizioni che sono seguite dal prefisso che, tipo se lì crede che, ecco, in queste proposizioni noi non ci stiamo riferendo tanto alla verità, al valore di verità, di ciò che segue a questo che, alla that clauses, o alla that clause in particolare, se stiamo parlando di una frase. Noi ci stiamo riferendo a quelle che sono le credenze di Selly, a quelle che sono le credenze del soggetto della frase, dell'enunciato. Quindi noi ci poniamo il problema della relazione che sussiste tra Selly e la proposizione che Venere è un pianeta. Il principio delle that clauses, così chiamato, dice proprio che è il risultato del mettere il prefisso che, davanti a frasi dichiarative, S, è un termine singolare il cui riferimento è il senso di S. Cioè, se io davanti ad una frase metto che, ecco, questa frase che, ed è una frase dichiarativa, io dico che, io credo che, io dubito che, a cui segue poi la frase dichiarativa, ecco, questa frase diventa, in un'analisi semantica, un termine singolare, un termine singolare, il cui riferimento è il senso di S, che si riferisce al senso espresso da quella proposizione, non dal suo significato. Si riferisce al senso espresso. Quindi, quando abbiamo visto la proposizione Selly crede che Venere è un pianeta, noi stiamo dicendo che c'è Selly, che è in un atteggiamento proposizionale, quello della credenza, nei confronti della that clause, della proposizione è un pianeta, Venere è un pianeta. Quindi c'è Selly, che crede che Venere è un pianeta, ma che Venere è un pianeta non ci interessa in quanto relativo al suo significato, cioè al suo avere un riferimento nella realtà, ma al senso che viene espresso da questa espressione, da questa proposizione. Le that clauses creano contenuto non estensionale. Il contenuto delle that clauses non ha estensione. Non ha estensione. Questo significa che il riferimento di una that clause non dipende dal riferimento della frase inserita, ma dal senso della frase inserita, per cui non vale la sostitutività. Non si può sostituire nella frase Selly crede che Venere è un pianeta qualcos'altro, dopo il che. Perché Selly crede che Venere è un pianeta. Non crede che, ad esempio, Espero è un pianeta. Quindi non possiamo dire Selly crede che Espero è un pianeta e dire Sì, tanto essendo Espero e Venere co-referenziali, e avendo entrambi lo stesso riferimento, possiamo intercambiarli. No, lo possiamo fare se valutiamo la proposizione senza l'atteggiamento proposizionale che lo precede, che precede la proposizione. Dunque, Selly crede che Venere è un pianeta. Ci riferiamo al suo senso, non al suo riferimento. Dunque non possiamo sostituirlo. Ecco che il principio di sostitutività che si è visto è collegato all'analisi degli atteggiamenti proposizionali. I rapporti di credenza, quindi, sono rapporti di relazione. Per cui, Selly sta nella relazione di credere che P, di credere che Venere è un pianeta, che P, che P è una proposizione generica. E a questo senso possiamo aggiungere nuovi sensi, no? Se noi diciamo, Selly crede che P, che P esprime un senso indiretto, ma poi ci sono altri sensi indiretti di secondo, terzo, quarto, quinto grado. Ad esempio, nel caso di senso indiretto di secondo grado è Selly crede che P, che Z. E qui si aggiunge una nuova Z-close, un nuovo che, più una proposizione. Ecco, in questo caso, che Z esprime un senso indiretto di secondo grado. E qui è molto significativo per analizzare queste Z-closes. Siccome abbiamo anche qui parlato di senso, è importante andare a vedere che il senso, di cui già si è parlato anche nella lezione precedente, il senso ha una sua oggettività. Ed è una oggettività fondamentale, che deve essere compresa. E per farcelo capire, Frege fa un parallelismo tra la Luna, il telescopio, e l'esperienza soggettiva. Essendo il senso una regola per determinare o un modo di presentazione del significato, ecco che il senso può essere visto come l'immagine della Luna, che è il referente, che mi appare di essa al telescopio. E che quindi non è soggettiva. Quella è la mia esperienza che dipende dalla mia immagine retinica, e che quindi è individuale, dipende dalle mie conformazioni fisiologiche. Dunque è oggettiva? No, è soggettiva. Mentre il senso è oggettivo. Come l'immagine sul telescopio. Quella immagine della Luna sul telescopio è uguale per tutti. Le proposizioni, dunque, non sono stati mentali. Perché gli stati mentali sono privati e nessun altro può percepirli. Mentre le proposizioni sono intersoggettive e hanno un senso che è oggettivo, è uguale per tutti. Le proposizioni, ovvero la frase dotata di senso, che esprime un pensiero nella terminologia di Freghe, ha una oggettività. Una oggettività che è un significato pubblico, non soggettivo. Vediamo ora, in sintesi, ciò che si può chiamare il riferimento dei predicati e il problema del concetto cavallo. Noi abbiamo, poniamo, una frase che deve avere qualcosa il cui ruolo non è semplicemente quello di riferirsi a un oggetto. Una frase non deve solo riferirsi a un oggetto. per Freghe un predicato denota una funzione non degli oggetti. Quindi, quando noi diciamo che Red Room è un cavallo, noi stiamo dicendo che qualcosa ha come predicato l'essere un cavallo. Ma questa relazione di predicazione non è denotativa di un oggetto, ma di una funzione. Il predicato essere un cavallo denota una funzione. Precisamente quella funzione che connette il termine singolare alla estensione, cioè all'insieme di tutti i cavalli. E dunque l'estensione si connette ad un valore di verità. È attraverso la mediazione della funzione che il termine singolare viene connesso ad una estensione, acquisendo così valore di verità. Noi dicendo Red Room è un cavallo, diciamo che il valore della funzione denotato da questa proposizione non è il valore di verità che dipende dal fatto che Red Room sia o meno un cavallo, in quanto il valore di verità è vero da che Red Room è o un cavallo. Non è questo il fatto. Il fatto non è che noi prendiamo la proposizione alfa è un cavallo e diciamo di questa proposizione che ha un valore di verità e tale valore di verità determinato dall'essere o meno Red Room un cavallo. Non è questo. Le funzioni fanno da mediazione tra il termine singolare e l'estensione quindi tra Red Room e l'estensione di tutti i cavalli. Le funzioni sono ciò i cui valori sono i concetti dei valori di verità. Concetti e valori sono entità di secondo livello ovvero entità che possono essere applicate agli oggetti che invece sono gli oggetti di primo livello. Gli oggetti di primo livello sono gli oggetti a cui poi posso applicare entità di secondo livello ossia concetti e valori. Ecco le funzioni in questa divisione sono delle frecce che partono da un'entità ad un'altra connettono un'entità ad un'altra e i concetti sono casi speciali in cui le entità a cui si punta sono valori di verità. I concetti sono casi speciali di funzioni in cui le entità a cui si punta sono valori di verità. Quando noi diciamo alfa è un cavallo alfa è un cavallo si riferisce al concetto cavallo e il concetto cavallo si riferisce al concetto cavallo ma questo fatto implica ad una inferenza contraddittoria che se alfa è un cavallo e il concetto cavallo si riferiscono allo stesso oggetto sono sostituibili perciò potremmo dire red room il concetto cavallo ma dire red room il concetto cavallo non ha alcun senso per cui noi dobbiamo ritenere che i predicati non hanno un riferimento ma hanno un riferimento solo quando stanno performando i loro ruoli normali nelle frasi complete cioè la differenza fondamentale rispetto alla teoria standard la quale vede associare ad uno specifico termine singolare un certo predicato il quale rimanda ad una estensione quindi si associa ad un termine singolare una data estensione secondo la teoria standard e una volta fatta questa operazione si può andare a cogliere il valore di verità dell'associazione del termine singolare con una data estensione per freghe il termine singolare si connette alla estensione attraverso ad una funzione poi si può andare a verificare il valore di verità freghe sostiene che il riferimento di un predicato poniamo p è la funzione f tale che per ogni oggetto x f di x è il vero se x appartiene all'estensione di p e f di x è uguale a falso se x non appartiene alla estensione di p per semplificare ulteriormente la questione che è complessa se noi abbiamo un termine singolare che nell'esempio che abbiamo fatto è red room e una certa estensione cioè quella dei cavalli quando noi diciamo che red room è un cavallo stiamo facendo questa operazione stiamo prendendo un termine singolare ossia red room e stiamo dicendo la funzione f di red room è vera solo se red room cade cade sotto l'estensione dei cavalli quindi questa funzione media tra il termine singolare e l'estensione e tale funzione è ancora una volta una funzione f di red room è vera se red room cade sotto l'estensione di cavalli ed è falso se invece non cade sotto tale estensione l'ultimo principio di freghe è il principio del contesto per cui il significato è sempre presente all'interno di un contesto e mai nella parola isolata è il contesto che mi dà il significato della parola e non tanto la parola presa in sé e per sé isolatamente per cui quando dico che la neve è bianca neve non può riferirsi a un valore di verità se non all'interno di questa frase cioè della frase della proposizione la neve è bianca la parola neve dentro la proposizione può avere un valore di verità e assumere dunque un significato mentre altrimenti non sarebbe possibile che abbia un significato però tutto ciò è in contraddizione ed è qui un grande problema che emerge dallo studio dei testi di freghe tra la composizionalità e il contesto cioè tra il principio di composizionalità e il principio del contesto perché nel primo caso quello di composizionalità ci dice che il senso della frase è determinato dal senso delle sue parti e lo stesso vale per il significato della frase che è determinato dal significato delle sue parti ma dall'altro lato il contesto ci dice l'opposto cioè che il senso delle parti delle singole parole è determinato dal senso complessivo della frase dell'enunciato e quindi questo appare inconciliabile questo conflitto è problematico e deve essere risolto allora Grazie.